E' in una nave cargo turca, battente bandiera panamense, che i carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno trovato migliaia di pacchetti di sigarette di contrabbando. Proveniente dall'Ucraina, con un carico di mais e grano e attraccata dal porto di Torre Annunziata, l'imbarcazione nascondeva nella stiva circa 7.000 pacchetti di sigarette di origini serbe, ma destinate verosimilmente al mercato nero napoletano. In manette il comandante della nave, un 39enne siriano di Tartus e tre oplontini di 68, 57 e 58 anni. Questi ultimi avevano appena prelevato 500 stecche del carico, 5.000 pacchetti e li avevano stipati in auto. Sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi esteri.